La Roma ha visto contro Villareale una squadra compatta e fortissima, è anche vero che hanno cambiato a rispetto di andata, è una squadra più cinica, più solida, hanno vinto sempre in casa, ma è anche vero che noi siamo una delle poche squadre che comunque siamo riusciti e batterli. Abbiamo dimostrato di avere tutte le qualità individuali e collettive per metterli in difficoltà. Sicuramente noi andiamo là a giocare la nostra partita senza paura, sapendo che per vincere devono verificarsi tre cose. Prima che noi dobbiamo giocare una grande partita, secondo che loro non devono giocare una grande partita e terza che la fortuna deve girare la nostra parte, ma io sono convinto comunque che possiamo fare risultato e spero di convincere anche i miei ragazzi.